Ciao a tutti e a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Superottomania. Oggi parleremo, come abbiamo fatto altre volte, di uno strumento legato al mondo del Superotto e dell'Otto, ovvero la giuntatrice. Quella che vedete qua è la giuntatrice. La giuntatrice, la giuntatrice. Che modello innanzitutto abbiamo? Qui abbiamo un rotolo di scotch trasparente, naturalmente. Poi abbiamo, innanzitutto vediamo quali sono le caratteristiche. Questa giuntatrice è una Ferragna, giuntatrice 8 mm, made in Italy, patented, modello special. Andiamo a vedere anche i particolari, ovviamente realizzata in metallo. Ecco, qua vediamo. Allora, costruzione in collatrici in connospeta. In collatrici rapide Roma. Italia, 30, 75, 572. E' perché erano attrezzi di lavoro FPA 2227. E' un attrezzi di lavoro che servivano anche per fare film, per fare cortometraggi, anche a un certo livello. C'è qualcuno che ci ha fatto poi... Ci ha dato poi dei film che poi sono trasferiti con il telecinema in 35 mm, in 16 mm. Quindi, comunque, questa era Super 8 e 8. Noi ci abbiamo montato diverse cose. Poi vi racconterò un po' tutto quanto. La cosa era composta, appunto, dallo scotch, da questa specie di chigliottina, track, che ovviamente tagliava, da questo fermo, che fermava bene la pellicola, da due altri fermi, che fermavano ulteriormente bene la pellicola. E questo qua dovrebbe in qualche modo... Ah, ecco, potremmo usare questi per fare bene le cose. Considerate che sto da solo, quindi devo... Perdonatemi. E poi avevamo un'altra ghigliottina che serviva per tagliare, ovviamente, altre parti di pellicola. Ma come veniva? A cosa serviva questa? Serviva, raggiuntatrice, serviva per fare dei piccoli montaggi, o dei grandi montaggi. Questa Modelo Special, chissà quanti di voi l'hanno usata o se la ricordano. Era in voga negli anni 70, forse anche prima. Noi l'abbiamo usata fino all'85, diciamo. Sicuramente fino al 185. Ovviamente prima si vedeva il film, o i girati del film, in Super 8 e nella Moviola. Ne abbiamo due. Una a mano, con la luce elettrica, ovviamente, che mostrava la pellicola in un visore. E abbiamo anche una Moviola motorizzata, con due motori al posto delle levette che giravano. Delle girelle, ovviamente, che facevano girare la bobina. Mettiamo qua le bobine, che è sempre bello vederle. Anche lo copri bobbina, ecco. Fa comunque scenografia. E vedevamo, praticamente, il pezzo da tagliare e da montare, anche per creare una scena. E subito lo mettevamo nella nostra aggiuntatrice. Che succede? Io, ovviamente, non si faceva proprio così, però, anche perché dovrei mettere... Ah, ecco. C'erano dei piccoli spuntoncini, che vedete? Che servivano di vario taglio, a seconda della pellicola, e non erano perfettamente allineati, perché poi erano allineati secondo una logica che rispettava la logica delle pellicole dell'epoca, ma anche di ora, perché, voglio dire, non è che sono cambiate con quelle logiche. Anzi, le logiche analogiche rimangono per sempre, almeno che non vengano distrutte. Allora, fermiamo questa pellicola in qualche modo, cerchiamo almeno di fermarla. Aspettate, perché la dobbiamo far passare... Si faceva passare, ecco, qui sotto alla pellicola. La fermiamo. La fermiamo. Poi non si faceva così, perché si doveva mettere su per giù al centro. Prendiamo l'altra pellicola. La facciamo passare qui. La mettiamo, ipoteticamente, nel punto dove noi volevamo creare una scena, oppure passare da una scena all'altra. La fermavamo. La fermavamo. Devo stare attento, perché queste sono originali e non voglio assolutamente romperle. Ecco, le fermavamo. Facciamo così, così almeno. Poi che succedeva? Succedeva che le fermavamo ancora di più con questo e poi, anzi, 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 noi con questo rotolo di carta, cosa è di scoccia, che facevamo? Mettevamo, mettevamo, perdonate il salto, mettevamo l'aggiunzione qui, dove doveva essere montato il film. Ovviamente era trasparente. Poi, che succedeva? Toglievamo i fermi. Se ci riusciamo con una mano, sarebbe fantastico. Ci proviamo, perché noi ci proviamo, siamo... Ma è molto difficile, molto difficile. Anche poi c'è un aneddoto che vi voglio raccontare su questa aggiuntatrice, perché ha montato tante cose, alcune meravigliose, evocative stupende. Allora, quindi, praticamente, mettiamo così, poi la fermavamo con questo. Vedete? È allineata su per giù. Questi devono stare bene. E poi che succedeva? Facchete! Olè! Allora, i due pezzi di scotch, ecco ne uno, mettiamolo qua. Alziamo... Io la chiamo la ghigliottina. E cosa avevamo? Avevamo il film, avevamo il film praticamente attaccato nel punto in cui doveva essere montato. quest'altra parte di scotch, se ci riesco, scusate, vediamo se ci riesco. Quest'altra parte di scotch, non ci riesco, vabbè, perché... Scusate, ecco. Quest'altra parte di scotch veniva staccata. E avevamo praticamente il montaggio della pellicola. Questa era la ferrania, rivediamola, la ferrania, giuntatrice 8 mm, made in Italy, patented, modello special. Fantastica, con le due sue pellicole. Mettiamoli qua, perché fanno colore. Allora, rievoca, evocativa questa giuntatrice, perché noi, nel 1981, ne sono assolutamente sicuro, facemmo un film che si chiamava, grazie a questa pellicola, anche grazie alle moviole che vedremo poi, abbiamo due moviole, una completamente manuale, con le, diciamo, le manovelle manuali, in cui si vedeva la pellicola attraverso una lampada che la proiettava sul visore, e una elettrica, con i motorini elettrici, che si manovrava più facilmente, era più evoluta, era più degli anni 80, quella successiva, e sempre con una lampada veniva proiettata sul visore le parti di firma. Ovviamente poi venivano tagliate. tagliate grazie all'aggiuntatrice. Ne esistono anche di più performanti. Io vi sto facendo vedere questa, perché noi facemmo con la regia di mia madre, Rossella Berti, e regia montaggio e riprese di mia madre, con una Canon Super 8 meravigliosa, e una Moviola, che vi farò vedere prossimamente, e questa Ferrania, facemmo un film con, appunto, riprese, montaggio, regia di mia madre, Rossella Berti, e la supervisione di Suor Maria Vanda Giacchetti, dalle Suore Francesca Nelges su Bambino. Quando facciamo il film, noi l'abbiamo incontrato, dedicato alla mia prima comunione. Purtroppo, ahimè, venne fatta solamente una copia, che venne consegnata alla cara Suor Maria Vanda, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato da qualche anno. Suor Maria Vanda, dopo che è stata a Roma tanti anni, insomma, mi ha fatto fare elementare a me, a tanti altri bambini, che ora sono uomini, anche abbastanza attempati, uomini e donne abbastanza attempati, ma speriamo sempre in forma, si trasferì in Abruzzo, in un'altra scuola in Abruzzo. E il caso volle che nel 2009, nel terremoto del 2009, appunto, lei stesse in una struttura che venne quasi completamente, insomma, distrutto, danneggiata. E quel film, unica copia, andò distrutto insieme al terremoto. E ci dispiace questo, ma sono cose che purtroppo accadono. Che ci rimane di quel film? Di noi l'abbiamo incontrato, montato con questa Ferrania, modello special, ho montato anche due cartoni animali con questa. Uno era sicuramente il mondo di Click, era un personaggio che avevo fatto e che avevo creato e da qualche parte lo troverò e le quattro stagioni invece fatte da mio fratello. Abbiamo, di quel film, ci rimangono i girati non montati, praticamente, i quotidiani non montati e proprio che sono anche chiamati scarti praticamente, proprio quegli scarti che non venivano bene o erano sfogati sono l'unica testimonianza che rimane di quel film ma che spero un giorno di farvi vedere. Comunque oggi abbiamo fatto una puntata di Super Rotto Mania speciale dedicata al giuntatrice Ferragna, un mito. Ovviamente questo non è lo scotch originale, lo scotch originale viene messo, è di un'altra proporzione più piccola che viene messo qua dentro, ma io adesso faccio con quello che ho però credo di aver fatto capire come avveniva un semplice montaggio. Io vi ringrazio per averci seguito e appuntamento alla prossima puntata di Super Rotto Mania.